L'udienza de Monsignore Non dico che non vai da Monsignore che de' ragione tu ce n'hai d'avanzo, dico che non ce vai de' dopo pranzo perché è arta la Pasqua, Salvatore. Queller tempo che er povero signore fa un po' de' rotti sul sofà de' ganso, e lui se piglia quel tantin' descanso per da' udienza alle pupe e fa' l'amore, o puramente ruzza col cagnolo, o s'aridira in stanza con ta' er morto, o biastima tra sé da solo a solo. Non c'annà dunque ordini di gestione che la mattina è vero po' da torto, ma il pomeriggio non dà mai ragione.